La Fondazione intanto ha i suoi compiti di sostegno dell'arte, della cultura, del volontariato e anche quello di seguire quello che è lo sviluppo economico. In tutta questa attività la Fondazione ovviamente non è una sostitutiva degli enti pubblici ma deve essere integrativa, deve colmare quelle lacune che ci possono essere in una società evoluta come la nostra che però nei momenti come questi presenta anche talune smagliature che vanno colmate. Naturalmente la Fondazione ha tutte queste attività ma è cosiente che anche attraverso la gestione del credito è possibile, anzi è necessaria per sostenere l'economia, per creare sviluppo, per creare occupazione. Per cui se va bene l'economia ci sono meno problemi di tipo sociale, vuol dire che c'è meno bisogno di ricorrere ad interventi assistenziali, per cui la cosa sempre migliore è quella che sia l'economia a risolvere i problemi di tipo sociale. La Fondazione quindi è ben consia di questo però nello stesso tempo deve valutare i senari di mercato che cambiano quindi deve poter giocare il suo ruolo a 360 gradi, cosa che noi faremo con la collaborazione e l'aiuto di tutti.